Cinque sacerdoti, una religiosa, venti coppie di sposi e la famiglia del Cenacolo Maria Stella dell'Evangelizzazione. Un piccolo seme germogliato dall'albero di Telepace, dal carisma del suo fondatore, un piccolo seme destinato a crescere, a dare forza e continuità a quest'opera. Ogni anno questa famiglia si ritrova per rinnovare davanti al Vescovo la propria adesione, il proprio sia ad un progetto. Il Cenacolo è quella grande famiglia che lo stesso Beato Giovanni Paolo volle perché fosse la custode del carisma di Telepace. E proprio giovedì sera i membri del Cenacolo avremo cinque coppie che faranno la loro prima professione, ma ne avremo venti che rinnoveranno i voti davanti al Vescovo e avremo anche due giovani che inizieranno il noviziato. La proposta di adesione al Cenacolo Maria Stella dell'Evangelizzazione è una proposta aperta a tutti coloro che si sentono vicini al carisma di Radio e Telepace. Come aggregati del Cenacolo possono essere tutti, sacerdoti, vescovi, suore, operatori, animatori, promotori di Telepace. Avremo un bel gruppo anche di aggregati che emetteranno il loro voto, è il quarto voto per noi, per loro è il primo, di disponibilità al Papa e al Vescovo quando chiedono qualche trasmissione a Telepace. San Giovanni Calabria è stato precursore tanti anni fa per quanto riguarda l'impegno in un'opera religiosa dei laici. Che cosa oggi può dare il Cenacolo in tutte le sue rappresentazioni a questa grande opera che è Telepace? Io ho avuto la grazia di conoscere personalmente San Giovanni Calabria quando morì, avevo già compiuto i miei 18 anni e ricordo tantissime cose di lui. Una cosa che mi impressionò molto fu proprio questa, quella dei laici, della presenza dei laici che si consacrano, cioè che si dedicano a Dio per il bene dei fratelli. Io credo che nella famiglia di Telepace questa presenza deve crescere, deve aumentare, non soltanto in Italia ma in tutti i paesi dove Telepace arriva. Io auspico che venga un giorno nel quale questa grande famiglia, come la chiamava il beato Giovanni Paolo, si estenda veramente su tutta la Terra e porti con i canali televisivi satellitari o di internet, porti l'annuncio di Cristo Redentore dell'uomo.